E' dal 2009 da Tremonti a salire fino ai giorni nostri che abbiamo questa situazione in cui alla ricerca e all'università vengono dati sempre meno danari, meno risorse e facendo fare le spese in modo particolare alle università meridionali con meccanismi che costruiscono una forma impropria di rating che alla fine ci penalizza e ci mette davvero fuori mercato. Quindi è una situazione di grande difficoltà. Si pensi, tanto per fare esempi concreti, che l'università di Bari o l'università di Foggia che hanno diversi professori ordinari che sono andati in pensione perché l'età arriva per tutti non possono più procedere a fare assunzioni di nuovi professori o a realizzare l'attribuzione di nuove cattedre perché non ci sono risorse e il governo non consente che queste risorse siano messe in condizione di utilizzo da parte dell'università meridionale. Dobbiamo fare in modo che le università meridionali possano, naturalmente facendo attenzione anche a come spendono questi danari, come li utilizzano, possano utilizzare maggiori risorsi di quando non vengono dati oggi.